Sì, è la partita di gioco, le 22 gambe che sui trattori di cara che sono frecciate davanti loro al passaggio dei crimini nella conclusione, che avrete il passaggio per così che la buono sono sfiori dalla campana ad annunciare a tutte loro, che dal 2012 saranno i primi tutti i partiti, la propria squadra c'è la pressione di una pressione di nessuna propria. Possiamo parlare del 12, tutto il fallo, attenzione a 30. No, ma anche per tutti i partiti, il gruppo è un passato, parlare da noi, tutti i partiti, attenzione a 30. Due punti alla concorrente di procuranza di Rossa Giorgia, un punto alla concorrente numero 19, Sattarone Viola. Questo è quello che è successo sul traguardo del 2012, i primi punti del SSE, quindi questo primo passaggio è utile. Il tempo di intercorrere in questa circostanza più meta il regamento del Stato d'Europa di Campur che è la propria squadra di Rossa Giorgia. Il tempo di intercorrere in questa circostanza più meta il regamento del Stato d'Europa di Campur e il regno di Rossa Giorgia. La regno di due punti alla concorrente numero 76 con la linea e nel regno di una concorrente 263 con la linea. La regno di Rossa Giorgia. La regno di Rossa Giorgia. Quanta gente cento sulle anzioni è uditi da La Fuglia, la regno di questa gara. La regno di Rossa Giorgia a Black служì è tuente della sua nascita però è qui che le miea e nel regno di due, sale a sbuota per il puntivo che è stato. Stiamo avvicinando con un nuovo ritmo, con una buona notatura, anche alla traguarda di un minuto nuovo interno, stiamo facendo gli appunti. Alvarello Perfunti, la comprensione 152 Vigliano Giulia, di una nuova scena 4 a 4, a punti di vista di fungo della conquista, la comprensione numero 2 e 5, a sostanza pressi, Vandone Alessia, del Vigliano Rosso Alessio, questo è un nuovo ritmo alla torsione. 8 tiri di Caprile, anche a punti di spagno per il primo di Vigliano Lettiche, la settimana superguardo è fatta come 8. e anche a punti di spagno per il primo di Vigliano, si ripete l'analoga situazione del passaggio precedente, quindi di un punto la comprensione 152 Vigliano Giulia, che è da un quarto sale a 6, ed un punto la partita in pubblici, che si sta attivando grande, una nuova scena di uno 2, che si è a 4 a 3. e questi punti che si sentono dopo il traguardo degli otto giri alla confusione. E manderanno il sesto di Giri al Ghermine sul prossimo passaggio. La Ghermine va a fare il giro, che sta andando a sette anni di fanno, il conto a venti da Pugliano in questa gara. Guadagno le punti da Pugliano con 252, a Giulia si porta otto punti, un punto lo conquista da Pugliano per 76. Bognete in linea del N3, si porta 4 punti con dei stati. Diile si tratta di un'altra distanza, di un'altra caccia di Ghermine, che si tratta di Ghermine, e se vede il bambino, però non sono diventati la caccia di Pugliano con Pugliano. Qui ha reso scamore il suo sotto. Dice la Pugliano con il giro, la Caccia di Pugliano con il Ghermine, il Ghermine, che si tratta di quel punto, che si tratta di Ghermine! ... ... ... ... ... ... ... ... sono stati assegnati sull'alleguardo del minimo 6, 5 giugno alla posizione, l'attenzione è passata, 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 l'attenzione da Gian Auro Bondo a testa di Palloni vai ragazze vai guadagni per punti la concorrente numero 42 per noi in unione 0-1 si porta a quota 3 punti con il Dato un punto non conquista la concorrente 921 con Palloni e Palloni nel 0-2 sarà a quota 3 punti con il Dato fino a perciò il momento della gara siamo nei momenti quasi assesibili a quota 4 punti con il Dato sul prossimo sguardo sono pregi e ancora toglie guadagni per punti la concorrente di Palloni e Palloni guadagni per punti la concorrente di Palloni e Palloni guadagni per punti la concorrente 152 rigano Giulia in adesa 8 si porta a quota 10 in testa alla nazifica un punto lo guadagni alla concorrente però 42 per noi in adesa 3 si porta a quota 4 punti con il Dato tutto questo guadagni per punti la concorrente e poi siamo nei 12 un punto lo guadagni per punti la concorrente la concorrente la concorrente la concorrente la concorrente le due si porta a quota 2 insomma la stessa parla ultimi punti volanti sul passato l'ultimo giro con il filo di campana disperasciato il mento dallo filo della campana il profano e il dialogo successivo fanno la balanza per il tiro un tranquillo per la posizione valentino 99 6 46 45 5 5 4 5 5 con tre punti, con il carino di Salina, con due punti, di alta giuola e strada, il sistema carino di gioco, un punto, ma il testa dice il sacco di gioco, la Zonica è lavorata al finale per questa incandescente finale a punti sulla 5.000 che si è stata regalata dalla categoria Lugliore San Zonini.